Ciao a tutti e benvenuti all'angolo del focolare. Io sono Valentina e questa è la mia dispensa. Amo la mia casa, l'organizzazione, l'ordine e la semplicità, soprattutto la semplicità. Questa mi ha permesso di semplificare la mia vita e con la semplificazione di godermi di più la mia famiglia, che è la cosa che amo di più. Non sono sempre stata ordinata, assolutamente, e non è uno dei miei unici difetti. Sono una drogata di caffè, io vado avanti a litri e litri di caffè tutti i giorni. Sono anche mamma di una piccola mangiamandarini che siamo andati a prendere praticamente dall'altra parte del mondo. Da quando è arrivata lei siamo una famiglia completa ed è davvero una cosa magicale, ordinatissima. E naturalmente è stata educata a preparare un buonissimo caffè. Qui all'angolo del focolare troverete tutti i lunedì mattina un video motivazionale dedicato proprio alle pulizie, al puliamo insieme e all'organizzazione della casa. E il giovedì un video un po' più chiacchiericcio, più organizzazione della casa. Facciamo spesso io e mio marito delle selezioni per liberarci del superfluo. Troverete anche tante dritte per come organizzare l'armadio e la risposta alla perenne domanda che cosa mi metto questa antina, anche se non ho nulla da vendermi. Insieme a tante dritte per come gestire la dispensa, per fare menu planning insieme e anche come gestire il proprio tempo e i diversi impegni di una famiglia. Troverete anche tanti home tour e piccoli consigli sulla decorazione di casa, ma non solo, anche tantissimi vlog e tante, tante risate. Per cui cosa aspetti? Iscriviti al mio canale! Grazie! Ciao!